È una giornata importante perché abbiamo presentato un bellissimo progetto sviluppato insieme a Fibering e all'ospediale pediatrico Gaslini. Un altro esempio concreto di come la fibra ottica e la rete ultra broadband che stiamo sviluppando può rappresentare un miglioramento della nostra vita e la possibilità che apre a tante nuove iniziative e nuove opportunità di sviluppo. Un ospedale diffuso di fatto si può dire, un ospedale connesso sempre più vicino al paziente e alle famiglie che possono così tranquillamente avere accesso alle informazioni dei medici in maniera più veloce e da remoto ma anche una grande piattaforma per informare i medici e per essere più vicini alla realtà della città.